Bella a tutti ragazzi, sono TheMeEditor dei LastGamers e sono con... Sempre Vizef ragazzi Nel secondo episodio di Left 4 Dead 2, dopo mille anni che cerchiamo di registrare Ok, ovviamente Perché dovete sapere che, vabbè, magari l'abbiamo già detto nel video di TheDrysing2 ma Noi avevamo caricato già un altro episodio di Left 4 Dead, è solo che è venuta una chiavica Perché io non so usare Camtasia e allora lo stiamo rifacendo Giustamente Vabbè, come sempre siamo rimasti al nostro punto in cui dobbiamo scappare dagli zombie Vero? Sì Vittor Ci sarai Sì, ci sono tutti i nostri ammigliari da abbassare un po' la voce Ok Sarebbe questo punto qua, non mi rimasti Non mi spazio che avrete prima il video di TheDrysing2 E poi quello di questo qua, non lo so dipende da TheDrysing2 No, vedo i primi video di TheDrysing2 Vero che vi piace come sempre anche se li vedo nel video però Pezzo di me A me e TheDrysing2 piacciono molto ma molto i giochi di zombie Sì, e l'abbiamo presa nel culo per il fatto che ho caricato male il video e poi l'ho cancellato Perché avevamo detto un sacco di cose nel video Molte cose, soprattutto molte interessanti Avremmo detto che avremmo iniziato una serie su TheDrysing2 Su qualche altro gioco, eccetera Ah Comunque, come ho detto Cioè, ripeto Che Ho detto che Ma come si ricarica con cerchio? Con B? Ok Vi avrei portato Dead Metal Gear Solid Rising Revengeance Solo che ho provato a registrare Cioè, l'ho registrato Il file mi è venuto oltre un giga Quando su YouTube è arrivato il caricamento al 99% Si è bloccato di brutto Si è pulato tutto L'ho tolto Non lo so Provo a farlo venire più piccolo il file Quindi, cercheremo di risolvere anche questo piccolo problema Vabbè, poi Se avete visto il video di TheDrysing Cioè, che ve lo caricherò a breve Potete, cioè Potete vedere, cioè Diciamo tutte le cose Le varie serie che faremo io e di amore Su Questo canale Mi consiglio, raga, di vederlo il video di TheDrysing Perché è davvero bello È bello perché Vi facciamo vedere come costruire alcune armi Si, vabbè, anche se Anche se ho tagliato le patti Come costruirle No, vabbè, anche se BZF mi ha fatto sparire la motosega Vabbè, sorvoliamo Vabbè, poi vedete il video, se vi piace, fatevi sapere, magari siamo contenti noi Tanto dove stiamo andando? Non lo so, io mi sto buttando la mischia Ehm, facciamo la fine e l'altra volta che dici Corsi Oh, che cazzo Un porcogino L'altra volta stavamo rischiando di Di fare un fail pazzesco Ah, ragazzi, voi avrebbero i giallavato a cu Arriveranno anche i fan di mondo E' un po' di I fan di montaggio Vabbè, non sono anche... ah, ok, ok Però, certo, non ho aspettato, che li carichiamo molto perché Per fare un video noi ci mettiamo Proprio l'anima di Dio E come cazzo si... oh, ma che è questo? Già, mano Dove? Oddio no, segaiolo, che muscoli a partire sega, eh Ma che cazzo Pizzerte il balletto Adio, vai, vai Johnny, la canta essa, tocca Ma che cazzo Pizzerte 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 Scusa Come si accende lato? Sf F F F F F F F F fracenzo erano del mondo e lui con il colmo scuola fracenzo b c'è il mondo a poco a poco a poco a poco a poco il gioifo tic il gioifo tic la cana pericolo e' mai lo scaracca bizzef bizzef no ora ma lo scaracca lo scaracca ok adesso parliamo un po' perchè in questi video siamo un po' comus si vabbè perchè dovete sapere che davvero ci abbiamo provato tante volte abbiamo fatti tanti abbiamo fatto tanti commentari su sto gioco alla fine ci siamo anche scorciati e che qua maio ma che sta accendendo ma che boh sto segaiolo di merda guarda a farti dei seghi che muscoli che ti sono venuti dai poste spero che stia registrando ragazzi spero spero frappi potrebbe fare brutte sorprese aria voi come detto nel video di advertising faremo qualche tutorial perchè fare sempre video di giochi non molto interesse cioè interessa di persone però anche i tutorial non fanno tanto male anche i tutorial non fanno tanto male sapere qualcosa in più su computer oppure qualcosa come programmi come incominciare anche se io che video ho fatto però sono vecchi sono di due anni fa un anno fa quindi ci aggiorneremo quindi poi scusate se la mia voce si sente come una chiavica ma un microfono del 2002 quindi ci si senti a breve via cia anche se io molto meglio a breve mentre i vari big money inserire che sempre questo fatto da cazzo da un b che arriveranno il mondo buoni quanto ragazzo io sto già avanti e non è stato stato questo se vuoi danno il video ma voi fa ancora lì ma come faccio a venire c'è di andare avanti non farei ricchiore dai muoviti pericchio inizio un po lo scaracca secondo me è meglio dell'em4 mi sto trovando molto meglio ma come cazzo già ti avviso che mi sono fottuto i kit medici un perdito io sono bene kit medici già va beh l'ho detto prima di farlo ma fa niente tutta una tonica di benzina il cazzo mi fa già la buona arriviamo arriviamo tecnici dai coach grazie io ho fatto il fucile a pompa croma stiamo giocando a raga raga dovete vedere guardate se è baccata la fiamma oh mio dio omg e poi vedrai ecco non puoi capire un attimo quando c'è ci farci fare un informe mando l'ho 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 un po' calcana l'ho 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 mi hai uomo paella è un po' di per un punto di legge a fiamme o da prendo io la coppia come rest ma che sono testa ero bello e animatico giocatore no a meno tombo a 2 non vuoi essere non mi credo per per cortesia per carito non continuare il lavoro si prende la tucca non è morto come cazzo sei morto questo è qua quattro appunto se tu vuoi se tu uo' dai nuovi o mio dio ok poi l'arri certo che cos'è l'esercito quanto è questo moto benedetto moto se non è che piu ce l'hai la coppia qual è la mia acqua la mamma da mamma c'è io sto avviene a vedere vita io sto più due di vita più uno adesso muovo giugno perché io muovo io per fortuna più 47 comunque allora bisogna metterla qua a sto stronzo di data la foto che lui fa saltare ci sono molto e ti pareva però raga bisogna dire per essere un gioco del 2009 è una grafica davvero stupenda si vabbè lo può reggere qualsiasi computer non è una grafica vabbè la grafica è molto bella però non è neanche pesante l'ho fatto che mi ero battuto morirò aiuto che venga morto di muro sono morto e rossalario muoio non puoi giocare più no mamma tanto faccio la telecronica dei miei dorsi appresta con il suo scaracca con quelli mirino laser che io non ho preso perchè mi sono dimenticato sei giù piccando lo sai io sul serio si sei camminando come un soppo ma dove cazzo l'ho lanciato vaffanculo stai sparando tipo camicazze quel grassone di merda vaffanculo o il bomber moschiani moschate se saresti resistito un altro poco uomo moriremo tutti dai muovetevi ok balletto attenzione se ne evo carino ok verrai verrai recuperato presto ragazzi mi recupero mi capisco ok che cazzo è ma dottor che bellissimo ok bizzef lo sai cosa potremmo fare però che mi fa è un pochino vecchio anche quello cazzo non morre ruminello vado vecchio 2009 2010 2013 veramente è un pochino vecchio allo scorso cazzo però non moro vabbè si può vediamo bene aveva un problema sai quali problemi dicono poi potrebbe arrivare un episodio di ma potrebbe arrivare un episodio di dei z dei z eh senza me però eh eh vabbè lui non ci sarà senza di me perché non ce l'ha lui dei z potrebbe potrebbe sicuro dipende un poco il pubblico lo so vuole e il pizzo lo sai a chi assomiglia al boomer il boomer buona buona idea al blotter titola storia no no si assomiglia di brutto no dai siamo nella safe house dai siamo nella safe house co 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 c'è la sala è stato un po' giochi vecchi stiamo trattando ecco la si vabbè battlefield 4 non è un gioco vecchio no aspetta lo stavo dicendo quattro e 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 c'è il piste di ma comunque ragazzi ehm giallo se ci sentite un poco battuti solo che farlo per la centesima volta non è facile quanto? quante volte hai detto? la centesima volta ehm di più eh non è facile perchè quando andremo a prendere di stazione quando abbiamo questo qua intanto questo piccolo spoiler del prossimo episodio e vabbè lasciate like da bzf e tutto anche da demiettitar da demiettitar e tutto da left for the ad è tutto e alla prossima bella raga